È stato consegnato il pallone d'oro a Messi, l'ottavo pallone d'oro. Ma lei tra Messi e Maradona, chi preferisce? Io metterò un terzo, Pelé. Sono i tre che io ho seguito. Maradona come giocatore è un grande, un grande. Ma come uomo è fallito. Il poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. È venuto a vedermi qui, il primo anno di pontificato. E poi il poveretto ha avuto la fine. È curioso, tanti sportivi finiscono male. Anche del boxeo, tanti finiscono male. È curioso quello. E Messi è correttissimo, è correttissimo. È un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Ma è un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho trovato su un aereo, quando ero a Buenos Aires. Avevamo parlato. Ma è un uomo di una umanità così grande. Ma i tre sono grandi. Ma è un uomo di un uomo di una umani. Abbiamo parlato. Ma è un uomo di un uomo di un uomo di un uomo.